Avrei preferito che ci fosse il sole e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che deve... Io avevo messo in agenda l'intervento di iniziare questo panel alle 10, nel metodo giorno, perché nel giorno andavo via, quindi ho intervenito adesso e poi non ho intervenito. Tra l'altro mi fa molto piacere, l'invito è stato fatto in maniera abbastanza originale, perché siamo incrociati con le organizzature in Piatale Daminio, mi hanno fermato dicendo che stiamo organizzando un dibattito sull'euro e sull'Italia, perché non viene e io ho accettato, poi siamo scritti, eccetera. E credo di aver fatto molto bene, anche se ho cambiato completamente l'intervento, avendo ascoltato le introduzioni, perché credo che questo tipo di dibattiti, anziché gli insulti su Twitter, facciano molto bene alla democrazia italiana ed europea da costruire e facciano molto bene anche al dibattito che noi dovremmo preparare in vista delle elezioni europee. Quindi credo che se chi è favorevole all'Europa federale, chi è contro l'euro, chi vorrebbe stare in un'altra Europa senza euro, si incontra e si parla, portando ognuno i suoi argomenti, credo che faccia molto bene. Aggredirsi o insultarsi, come invece spesso capita a chi, come me, è un federalista europeo convinto, quando si incontra nel mondo virtuale a parlare di queste cose, non fa bene per niente, non fa bene nemmeno a chi insulta perché gli viene un fegato così, immagino. E quindi bene la vostra iniziativa. Io ovviamente ho, diciamo, tante cose da dire, ma cercherò di rispettare i 10 minuti, rispettando anche la struttura che abbiamo dato a questo panel, cioè, riferendomi alle introduzioni, credo che io sono un po' un dischiazzan delle introduzioni che sono state fatte. E quindi parlo dall'affermazione, assolutamente legittima, perché io rispetto, ma che non condivido, per cui il sistema europeo, il sistema europeo, non questo sistema europeo, non questa impostazione, ma il sistema europeo elimina la democrazia. Ecco, io credo che invece il sistema europeo è la dimensione europea da costruire, è possibile costruire, sulla quale abbiamo perso delle battaglie, ma dobbiamo continuare a fare delle battaglie, sia invece la dimensione, nella quale recuperare una vera democrazia e recuperare una vera sovranità. Perché ritengo che, a parte che la Costituzione parla non solo di sovranità in senso nazionale, ma anche di possibilità di cedere la sovranità a livello internazionale. E quindi, attenzione, attenzione, perché non è anticostruzionale decidere di esercitare insieme la sovranità avendo tempo avrei parlato esattamente di questa dimensione, quindi perfetto, quindi non si può accedere la sovranità. Conferma, ecco, e anzi, quindi siamo dove si può accedere, la Costituzione ci dà la possibilità di esercitare insieme in un'altra dimensione, io però non l'ho interrotta, e quello anche lei, perché anch'io ho tante cose in disaccordo con lei. E poi, le ripeto, se lei comincia a interrompere, mi rovina l'introduzione, ho detto che dobbiamo fare un fatto aperto nel suo scopo. E quindi la Costituzione dà la possibilità anche di cedere la sovranità. A me credo che sia molto meglio parlare di esercitare in maniera congiunta la sovranità, liberamente la Costituzione italiana, dà la possibilità alle repubbili italiane di decidere di esercitare insieme la sovranità in determinati settori a livello internazionale. Abbiamo benissimo il lungo dibattito, articolo 10, articolo 11, io però aggiungo una questione, che è il tempo di avere un dibattito nazionale su una clausola specifica dell'Unione Europea della Costituzione, perché non mi accontento più, e credo che questo sia la prima proposta che faccio, dell'articolo 10, dell'articolo 11 della Costituzione e della sovrisprudenza della Corte Costituzionale italiana. Credo che sia arrivato il momento, come del resto altri stati membri dell'Unione Europea hanno fatto, di inserire, e quindi di dibattere su quale clausola, di inserire una clausola sul rapporto tra la Repubblica italiana e l'Unione Europea. Questo è, a mio modo, il primo punto importante che volevo aggiungere rispetto a uno dei punti della introduzione. Il secondo punto, che avete, non seguo l'intervento che avevo preparato, il secondo punto riguarda la questione della libertà nazionale, della democrazia nazionale, della democrazia europea e degli strumenti esistenti o non esistenti a livello europeo per parlare di democrazia e per esercitare la democrazia. Allora, ovviamente bisogna vedere da che prospettiva noi guardiamo questa cosa che si chiama Unione Europea, perché se la guardiamo con gli occhi unicamente dello Stato nazionale, certamente oggi, e io ho scritto tante cose su questo da vari anni e quindi non mi si può dire è perché l'Europa è in crisi, lo dice adesso, che certamente se si guarda alla questione democratica europea e alla questione istituzionale trattino politica europea con gli occhi dello Stato nazionale, così quello abbiamo conosciuto, certamente l'Unione Europea è buonca, è incompleta e c'è tutta una serie di aspetti istituzionali, diciamo, avendo un carattere costituzionale, avendo anche un carattere, diciamo, di norme secondarie, che vanno assolutamente modificate perché certamente occorre completare una dimensione democratica e anche una dimensione politica e anche una dimensione sociale, a seconda del tipo di norma che guardiamo, dell'Unione Europea. Se guardiamo l'Unione Europea invece con gli occhi dell'organizzazione internazionale, beh, non si può dire che non ci sia democrazia e l'organizzazione internazionale basata su un trattato liberamente fatto da altre parti contraenti che liberamente decidono di negoziare, firmare, ratificare un trattato è certamente l'organizzazione internazionale con il più alto tasso di democrazia perché non c'è altra organizazione internazionale in cui c'è un Parlamento Europeo eletto direttamente a sui tragi universali e ai cittadini. Quindi attenzione! Attenzione a, diciamo, contrapporre totalmente la questione europea e la questione della democrazia. Allora, forse la questione politica di fondo è come passare da una democrazia che è molto formale, vedi le elezioni europee, vedi il dibattito che precede accompagna l'elezione del Parlamento Europeo in cui non abbiamo mai dibattuto fino ad oggi. Se vogliamo stare in Europa, se vogliamo uscire, c'è un articolo 50 del Dottato dell'Unione Europea. Usiamolo! Se vogliamo il popolo italiano decide di uscire, il Parlamento italiano decide di uscire dell'Unione Europea. Articolo 50, nessuno ci obbliga a rimanere. Allora, cerchiamo di dare vita a livello politico al dibattito sull'Europa. Usiamo le elezioni europee non per fare un test sulla popolarità o l'impopolarità della maggioranza dell'opposizione, come sempre è stato fatto in Italia e anche negli altri paesi. sempre elezioni in serie B, elezioni in cui si votava per le istituzioni europee ma non si dibatteva dell'Europa. Vogliamo starci? Non vogliamo starci? Ci soddisfano questo tipo di Europa? Un'altra Europa è possibile? Io credo che un'altra Europa sia possibile. E credo che questo debba essere l'oggetto del dibattito che dovremmo fare alle elezioni europee, cioè costruire la dimensione politica dell'Europa. La dimensione politica dell'Europa si costruisce attraverso un'assunzione di responsabilità da parte dei politici, da parte dei sindacati, da parte dei cittadini, cioè occorre assolutamente mettere al centro del dibattito, al centro della politica, che tipo di Europa vogliamo e come completare, modificare, abolire, per me va cambiata e completata l'Unione europea che esiste. Questo dovrebbe essere, a mio modo di vedere, l'approccio rispetto alla questione democratica, mettendo in discussione anche la questione del ruolo del Parlamento europeo oggi e del ruolo dei Parlamenti nazionali oggi. Se noi prendiamo il Trattato di Lisbona e guardiamo il Trattato di Roma, vediamo un avvalzamento enorme dei poteri del Parlamento europeo. Oggi il Parlamento europeo, in base al Trattato di Lisbona, codecide con le cifra, con i governi e i consigli ministri, sul 90% delle questioni di cui si decide a livello di Unione europea. Ci sono due questioni, ad esempio, su cui non decide e credo che invece vadano sfruttamente sottoposte alla potestà del Parlamento europeo. Guarda caso la dimensione sociale e la dimensione fiscale. Però la dimensione sociale e il Trattato di Lisbona. C'è una clausa che si chiama Passerella. Basta dire che le varie questioni di politica sociale possono, vanno da domani, sottoposte alla procedura recettiva ordinaria. Cioè, governi e il Parlamento europeo decidono insieme di fare cosa? Io ho sentito parlare di costruzione. Ho sentito parlare dei trattati. Non ho sentito parlare della Carta dell'Unione europea di reti fondamentali, che ha un valore di costruzione. non ho sentito dire che lì c'è una dimensione sociale e basato sulla dignità dei lavoratori, che a mio modo di vedere dovrebbe essere invocata per introdurre, siamo non esti d'accordo, io lo chiedo da tanto tempo, un retto minimo garantito nello spazio europeo, che garantisca un potere d'acquisto minimo ai lavoratori nello spazio europeo. Si può fare? Sì. Allora forse la questione non è solo della struttura, la questione è anche della politica. Allora forse la questione è anche della politica. Perché quella Carta non ci dice, non ci parla solo di stabilità dei prezzi, ci parla anche di una fortissima dimensione sociale. Allora forse è la questione di chi decide all'interno del Consiglio dei Ministri, di chi eleggiamo all'interno del Parlamento europeo, se oggi l'Europa è squilibrata, è zoffa, è totalmente sfinanciata sul lato stabilità che non ha ancora sviluppato una sufficiente dimensione sociale. La questione fiscale è vincolata all'umanità. credo che non sia sostenibile mantenere le discipline, non tutta, ma parte della disciplina sulla passazione che incide sul mercato unico, che incide sui vari aspetti dell'equilibrio sociale del mercato unico, non sia sostenibile nell'Unione europea 28 Paesi e più, perché l'allargamento dell'Unione europea continuerà nei prossimi anni, non sia sostenibile di mantenere la regola dell'unità su questo. Allora, delle due luna o modifichiamo la regola dell'unità oppure usiamo la clausola della concalazione rafforzata e decidiamo in gruppi di Paesi, in particolare nella zona euro, di procedere su questo. Quello che voglio dire è che innanzitutto cerchiamo di vedere quanto non è stato attuato e quanto è possibile nell'attuale architettura istituzionale. E poi vediamo, e c'è molto altro, quanto c'è da fare in un'altra architettura politica istituzionale. Io credo che ci sono tutta una serie di modifiche dei trattati, modifiche istituzionali dei trattati, a partire dai rapporti tra Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri e Banca Centrale europea, per arrivare a tutta una serie di politiche specifiche che richiedono una nuova revisione dei trattati. una nuova revisione dei trattati su cui dovremo lottare e batterci per invocare quella rottura costituzionale che ha caratterizzato tutti i grandi dibattiti costituzionali della storia. E cioè se di nuovo ci troveremo di fronte al vento di quello o quell'altro Stato per aumentare alcune competenze in materia di politica sociale, per avere una politica industriale della mente europea facendone una competenza condivisa, per una armonizzazione fiscale laddove incide sugli iscritti, su questo dovremo procedere a maggioranza. Ma queste sono solo alcune cose che mi sono e concludo, mi sono venuto in mente e ascoltando l'introduzione. Ho concluso solo dicendo un'altra cosa che mi sono annotato rispetto alla questione di Delors. Ecco, alla questione di Delors. Ho sentito dire che Delors, Pearle e Carly sono gli ideatori di questo, ricordo che Delors, conosciuto per quel piano Delors degli anni Ottanta, che a mio modo di vedere ha per certi aspetti ancora una sua forte validità e quella forte validità ce l'ha innanzitutto sul tema che è, diciamo, io lo dico così, non tutto il debito pubblico è negativo. Il debito pubblico speso su progetti da avvenire, su progetti che garantiscono il futuro, è un debito pubblico possibile, positivo, è la battaglia che dal piano dell'ora oggi stiamo facendo per non computare, come la dico in maniera semplice, anche perché è un minuto, non computare come debito pubblico le spese per gli investimenti produttivi e su questa cosa bisogna fare da due livelli che non sono alternativi ma sono complementari. Per quanto riguarda i margini di manovra a livello nazionale occorre di nuovo fare la battaglia, soprattutto con i tedeschi perché gli irlandesi stanno cambiando idea, su questo, sugli investimenti produttivi bisogna rifarla, bisogna rifarla, noi l'abbiamo persa, io quando in Commissione Europea fu in Prode l'abbiamo persa, siamo stati messi in minoranza nella Commissione Europea e poi in minoranza nelle posizioni dei ministri. Quindi è vero, quello è il punto che rimane a livello nazionale. A livello europeo è evidente che questa situazione non è sostenibile se non si utilizza in maniera quantitativa e qualitativa migliore al servizio della crescita il bilancio europeo e quindi degli interventi sulla domanda aggregata di investimenti produttivi, sulle infrastrutture innanzitutto e sulla ricerca ma anche in altri settori attraverso un bilancio europeo che non può essere ridotto in momenti di crisi. Perché se in momenti di crisi noi riduciamo addirittura il bilancio europeo anche che aumentarlo e utilizzarlo per fare gli interventi sulla crescita, è evidente che non andiamo nella direzione opposta rispetto a quella necessaria. Su questo poi è finita la legislatura ma noi agli altri della Camera mi sono sottoscritto in agonino e abbiamo votato, ci sono dei colleghi, abbiamo detto a Mario Monti che doveva mettere il vetro sull'ultimo accordo sul bilancio europeo. Perché questo accordo sul bilancio europeo andava nella direzione opposta, andava nella direzione opposta non avevamo altri strumenti, se non in Parlamento votare un atto per il volante non è stato seguito. Non avevamo altri strumenti. È evidente che quel bilancio va nella direzione opposta a quella che è necessaria per fare quello che io ritengo che debba fare. Il bilancio europeo dovrebbe essere al quanto meno del 2,5% il intendente dovrebbe arrivare al 5%. Questo è il modo di vedere di intavolare il dibattito sulla questione europea. Queste sono le priorità. Angela Merkel ha detto che si è sempre opposta. Vediamo adesso se di fronte, e concludo, di fronte al nuovo contesto politico che sta emergendo in alcuni Stati membri e emergerà dopo le elezioni europee, chi è, se sempre opposto, a dare più flessibilità e a darci la possibilità di fare una politica della domanda aggregata, soprattutto a livello europeo, ma dando anche più flessibilità a livello nazionale, avrà la forza di continuare a opporsi e noi invece non riusciremo a introdurre quelle modifiche nella struttura e nelle politiche che mi vuol dire dire sono assolutamente necessarie perché io credo che, siamo in pentaduato, ma io voglio arrivare dalla trasponda, per me la trasponda dell'Europa politica federale, non voglio tornare alla finta sovrae nazionale. Vi ringrazio. Grazie. Quindi partiamo dal trattato di Eudovei e poi limitabilmente devo sentire la questione di noi. Se non si permetta di chiamarmi eroi, l'ho fatto per motivi solamente miei, sono troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi.